Grazie Presidente, io mi collego all'ultima affermazione, c'è stata una riunione trasparenza capitolina, un'ora prima c'era stata una riunione in città metropolitana su analogo tema, una settimana prima c'era stato un sopralluogo della commissione capitolina scuola proprio in sede, qualche mese prima avevamo riaffrontato il problema, esattamente un anno fa in quest'aula il problema è stato posto all'attenzione con una mozione poi ritirata sempre a firma di Fratelli d'Italia, a seguito tra l'altro di un'altra commissione capitolina scuola precedente alla presentazione di questa mozione. Allora il problema è un problema veramente sentito ed è un problema che stiamo seguendo esattamente da un anno fa, è vero che c'è una raccolta firme, è pur vero che c'è una richiesta, c'era stata una richiesta da parte di alcuni genitori di spostare, di smettere l'utilizzo di quella struttura e di quella scuola per una serie di fatti di cronaca che si erano verificati qualche anno prima. È anche vero che l'obiettivo di questa amministrazione, e lo abbiamo sempre dichiarato, è stato quello di dismettere i fitti passivi e in questa prospettiva il patrimonio è partito, ha iniziato una mappatura dei beni di proprietà del Comune di Roma, che voglio ricordarlo, non sono del Comune di Roma in quanto entità astratta, ma sono del Comune di Roma in quanto il Comune di Roma è dei cittadini, quindi sono fitti passivi che alla fine gravano sui cittadini e laddove è possibile dismettere questi fitti passivi è doveroso, riteniamo, che si proceda in questa direzione ed è la direzione che la parte politica del Municipio Quinto ha intrapreso. Ora capiamo le difficoltà di tutti, capiamo le esigenze degli insegnanti, degli utenti, dei bambini e dei cittadini in generale e proprio in questa ottica nessuno dismetterà l'utilizzo di questa struttura se non si creeranno tutte le condizioni idonee a che le nuove sedi identificate possano essere veramente fruibili. E' l'impegno che personalmente ho chiesto all'assessore alla scuola del Municipio Quinto ed è quello che poi è uscito fuori dalla commissione che abbiamo avuto in città metropolitana. Perché città metropolitana? Perché concorrono tutta una serie di attori alla definizione della situazione, compreso città metropolitana, compreso anche altri attori. Quindi se tutti i pezzi del mosaico non andranno al loro posto, la situazione resterà tale fino alla definizione di tutta la situazione. e quindi nei tempi utili cittadini, insegnanti ed altro avranno le informazioni del caso per poter iniziare l'anno scolastico nella maniera tranquilla. Grazie. A lei.